Non tornano sui loro passi le società di eccellenza e promozione coinvolte nei cosiddetti play-out aggiuntivi. Tutte hanno deciso di non scendere in campo il 25 e di affidarsi ai propri legali, tra loro il Gesualdo di mister Alfonso Pugliese, che dopo aver ottenuto la salvezza ai danni del San Vitaliano vincendo per 2-1 avrebbe dovuto sfidare la Sanseverinese per questa ulteriore coda di torneo. Giocare, secondo le società, sarebbe stata una scelta contro i principi dello sport, soprattutto dopo aver concluso la stagione il 6 aprile scorso. Stessa scelta fatta anche da Club Punte, Hermes Casa Giove, Puteolana 1909, Rione Terra, Sanseverinese, Rocchese e Temeraria San Mango, così come tutte le compagini campane del massimo campionato regionale.